Ciao ragazzi, buonasera, salve a tutti, come va? Ci ritroviamo dopo tanti anni, Gianni Annello è una nuova storia, una vecchia storia, però cercheremo di essere all'altezza della situazione. Abbiamo un maestro qui, un grande maestro, Nello Giordano, dove, quando, come, perché? Noi siamo già stati al Mentecurex Coven Garden a Capaccio due settimane fa, adesso giovedì 3 dicembre saremo al 51 a Fratte, cercheremo di riempire come è nostra abitudine e divertire tutti. Vi aspettiamo tutti, 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 mi raccomando ragazzi non mancate. Ciao! Grazie a tutti!